A mio padre. Lei è venuta da te all'improvviso, per portarti via chissà dove lontano. Dove sei ora? Dove sarai mai? Il tuo pensiero, dov'è volato via? Mi sei vicino ancora o sei lontano, ma tu non parli, né più tu parlerai. A te, mio Dio, rivolgo una preghiera. Accogli la sua anima nel cielo. Se è peccator, perdona i suoi peccati. In fondo al mondo, chi non ha sbagliato. Se è vero che siamo tutti figli tuoi, perdonalo, Signore. Tu lo puoi.